ciao a tutti sono lucia e abbiamo appena terminato la conferenza di m goldex ad asti e siamo a passeggio con tutto il gruppo e insieme ai leader che sono venuti apposta per noi per spiegarci questa meraviglia che ci renderà tutti liberi perché l'oro fisico è la prima cosa che non avrà mai nessun tipo di non non crollerà mai l'oro è luce l'oro è libertà e l'oro è gioia che ci permette di conoscere tutti in tutto il mondo come siamo adesso qui a passeggio insieme a tutti i leader ciao a tutti ricordatevi che l'oro è denaro ciao italia ciao 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 become a client ciao 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 ciao